Salve a tutti. I detti dei padri del deserto sono un'antica raccolta medievale di aneddoti, di storie, di leggende che riguardano i primi eremiti cristiani d'Oriente. In uno di questi detti si racconta la storia di tre amici che, disgustati dalla vita dell'impero bizantino di circa 1400 anni fa, decisero di diventare monaci, però in modo diverso. Due si fecero monaci attivi, un altro monaco eremita nel deserto. Uno dei due monaci attivi decise di fare il medico, curare tutte le persone bisognose di cura nelle sofferenze del corpo. L'altro invece decise di mettersi davanti ai tribunali per riappacificare tutti i litigiosi e i litiganti di questo mondo. Dopo un po' di tempo però i due monaci attivi si sentirono sconfitti, avviliti, quasi angosciati perché non riuscivano mai a venire incontro a tutti i bisogni, le domande, le richieste delle persone. Allora decisero di andare a chiedere, come dire, consiglio a consultarsi con il loro vecchio amico nel deserto. Il vecchio amico li stette ad ascoltare, dopodiché prese una brocca d'acqua e una ciotola, versò dell'acqua sporca in una ciotola e li invitò a guardare. Non si vedeva nulla ovviamente, li invitò ad aspettare in silenzio. L'acqua si depositò, o meglio la sporcizia dell'acqua si depositò e l'acqua divenne trasparente in modo quasi da specchiarvisi. Morale, solo aspettando in silenzio, solo stando tranquilli, stando lontano dalla turbolenza della vita, si può guardare bene dentro se stessi quello che si vuole essere, quello che si può fare nei confronti della vita stessa. È una morale che sicuramente ancora oggi praticano gli eremiti del monte Athos in Grecia, che oggi andremo a visitare, in una natura splendida, non certo desertica, tanto da meritarsi il nome di Giardino di Maria. La morale che per essere soddisfatti di se stessi, qualunque cosa si faccia, forse bisogna mantenere un eremo del cuore, un angolo di silenzio, in cui, direbbe il credente, riustentare di mettersi di fronte Dio, o direbbe un laico, di mettersi di fronte al proprio desiderio di bene, di gioia, di felicità. Un'antica leggenda cristiana narra che la madre di Dio, Maria, poco dopo la crocifissione di Cristo, abbia lasciato la Palestina. La sua meta era Cifro, ma una forte tempesta ha mandato la nave contro la costa rocciosa di Athos, in una delle tre falangi di Salonicco, la penisola Alicheli, nell'Egeo del Nord. Affascinata dalla bellezza selvaggia e meravigliosa della natura, sembra che Maria abbia soggiornato in questo luogo per un lungo periodo. Prima di lasciare definitivamente questo bel luogo, ha pregato suo figlio di curarle questo piccolo pezzo di terra e sembra che egli glielo abbia regalato e le abbia promesso che nei secoli dei secoli l'umanità avrebbe ricordato Athos come il giardino di Maria. Nel corso dei secoli, Athos ha ricevuto poi un secondo nome, Monte Santo del credo ortodosso. Dall'inizio della storia del cristianesimo, gli uomini pii hanno cercato qui, attraverso la preghiera e il raccoglimento, di avvicinarsi a Dio. I primi uomini santi che hanno seguito l'esempio del Signore hanno cercato la calda sabbia del Sinai e sono stati denominati eremiti, dal greco erimos, che significa deserto. Le radici storiche dell'ascetismo di Athos risalgono al periodo della fondazione del primo stato cristiano, l'impero bizantino, nel IV secolo d.C. All'inizio del IX secolo, gli eremiti si stabilirono nella penisola Alchidichi, che allora attraverso le guerre e le catastrofi naturali, era divenuta quasi invisibile. Prima gli uomini santi si stabilirono su tutta la penisola, vivevano soli in caverne, di qui ricevettero il nome di colui che vive solo, Monacos in greco. Più tardi i monaci si sono ritirati nella falange occidentale di Alchidichis. Qui, ai piedi del monte Athos, hanno costruito nel 963 il primo monastero, Megistilabra. Poco dopo, sorsero due nuovi monasteri, Guaopedon e il Giorgiano Iberer. Nei secoli seguenti, oltre agli ortodossi greci, serbi, russi e bulgari, anche gli ortodossi romani hanno costruito i loro monasteri, qui, in questo giardino di Maria. Oggi vivono 1280 monaci nei venti grandi monasteri ai piedi del monte Santo. Un'enorme roccia di pietra, che sorge 2000 metri sopra il golfo Tracio. In queste caverne, che oggi vengono abitate solo da uccelli selvaggi, una volta vivevano decine di migliaia di uomini. Qui si crede di sentire ancora la presenza vivente di Sant'Antonio, di San Pacomios e degli altri grandi eremiti. Padre Stefano sembra appena essere uscito da un'icona sacra del millennio scorso. Questo nobile jugoslavo ha lasciato 28 anni fa la sua famiglia e si è ritirato qui. In una punta di roccia ha scolpito con le sue mani, martello e piccone, 100 metri sopra il mare, la sua lode a Dio. La comunità monastica del monte Santo è l'unica repubblica del mondo che sopravvive da dieci secoli. La comunità di Athos ha mantenuto la sua indipendenza persino durante la dominazione degli ottomani sui greci, durata 400 anni. Il primo giugno di ogni anno è un giorno importante per la Repubblica di Athos. I monaci dei venti monasteri si riuniscono a Carriès, la capitale della Repubblica, per eleggere il governo per il prossimo anno che consta di quattro persone. Il giuramento ha luogo nel Protaton, la chiesa principale del monte. Ogni decisione deve essere presa all'unanimità. Una democrazia assoluta che funziona già da mille anni. La Repubblica dei monaci è sicuramente anacronistica nel mondo odierno, in cui il telefono, il televisore e gli aerei hanno accorciato le distanze temporali e spaziali. Qui non esiste neppure l'elettricità che aiuta ad allungare la giornata e non esistono neppure le strade. Chi vuole visitare Athos deve salire sulla funivia che, tempo permettendo, funziona una volta al giorno e collega il monte con il mondo. Una visita sul Monte Santo è un viaggio in un'altra epoca. Un viaggio che possono fare solo gli uomini. Alle donne è vietato l'ingresso già dal secondo secolo. Ogni visitatore deve avere un permesso di soggiorno particolare. Per pellegrini e ricercatori non esistono praticamente limiti. Un visitatore casuale, però, non può sperare in più di tre giorni di ospitalità. Agios Panteleimonas è uno dei più bei monasteri di Athos. Viene chiamato anche il Russo perché è costruito in stile russo e perché dopo il saccheggio di Costantinopoli molti russi si sono stabiliti sul Monte Santo. Dietro i motivi religiosi si celava anche il desiderio degli izzare di rivendicare diritti di eredità su Bisanzio. Grazie ai generosi doni, questo convento era allora il più ricco della montagna. La maggior parte degli arnesi liturgici sono di oro puro. La biblioteca contiene più di 20.000 volumi, di cui circa 1.300 manoscritti rari degli inizi di questo millennio. I canti liturgici vengono recitati dal 1875 in due lingue, greco e russo. Prima della rivoluzione di ottobre risiedevano qui centinaia di russi. Oggi abitano nel convento 28 slavi e due greci. Negli ultimi anni sembra che ci sia un ritorno alla vita religiosa da parte delle nuove generazioni. Oggi la maggioranza dei monaci è costituita da uomini giovani e colti che vengono qui per scoprire Dio nella vita e nelle cose. Al tramonto i monaci di Athos sono immersi in lunghissima preghiera. Pregate ininterrottamente, predicava l'Apostolo Paolo. Non solo al mattino e alla sera o sette volte al giorno, ma ininterrottamente. Ad Athos, almeno otto ore al giorno vengono riservate alla preghiera a Dio. I rintocchi del legno ricordano Noè che chiama gli animali all'arca e la chiesa è l'arca dei credenti. In questa funzione vengono incluse tutte le immagini e le reliquie benedette. Esse simboleggiano che il corpo umano è solo un luogo di soggiorno provvisorio dell'anima immortale. Per i monaci del Monte Santo, le icone e le reliquie prendono forma come il pane e il vino nell'ultima cena prendono il significato del corpo e il sangue di Cristo. I monaci di Athos si vedono nel loro essere terreno come messaggeri di Dio. Per loro la morte non presenta alcuna paura. Al contrario, essa rappresenta la porta alla vita eterna. Il ventesimo secolo non ha ancora raggiunto la comunità di Athos. La coltivazione dei campi richiede un grande sforzo fisico e anche il rifornimento d'acqua del monastero è faticoso. Anche l'olio d'oliva viene ancora ottenuto con vecchi metodi. In tutto questo sforzo esiste un significato profondo. La stanchezza fisica fa trascurare i desideri carnali e aiuta lo spirito ad avvicinarsi con la preghiera all'eterno immortale, dicono i monaci. Da novizi imparano già ad includere nel loro respiro la formula di preghiera Gesù Cristo abbi pietà di me. Anche il respiro diventa una preghiera, come qualsiasi attività, qualsiasi azione. Anche il cucinare è faticoso. Qui non esiste elettricità, né gas e nessun altro comfort. I pasti constano soprattutto di verdure cotte, legumi con poco olio, nonché pesce. I monaci rifiutano rigidamente il consumo di carne. I refettori dei monasteri sono semplici e disadorni. Durante la durata totale dei pasti vengono recitate delle preghiere particolari atte a rendere tangibile la presenza della bontà del Signore. Questa melodia, suonata con le campane, si sente a Carriès, la splendida capitale di Athos, tre volte l'anno. A Natale, a Pasqua e poi quando un inviato del Patriarca, un metropolita, visita il monte. L'accoglienza ha luogo naturalmente nella cattedrale di Athos, una chiesa costruita nella prima metà del X secolo. Allora, l'impero bizantino godeva di collegamenti mondiali. Cardinali e imperatori visitavano spesso il monte santo. Qui, tutto ricorda Bisanzio. Per i monaci di Athos valgono ancora il calendario gregoriano e la misurazione del tempo bizantina, secondo la quale l'alba conta come ora zero. I preziosi gioielli, come gli arazzi di seta, rispecchiano il lusso orientale della corte bizantina. A Bisanzio, gli imperatori prendevano parte attivamente alla vita della chiesa e quando il loro dominio cadde, i patriarchi presero in mano anche la responsabilità politica. Portavano gli abiti dell'imperatore e i simboli del suo potere. Oggi, dato che il più alto principe della chiesa ortodossa è un turco senza alcun diritto, tutte queste cose hanno un significato solo sulla carta, ma non per i monaci di Athos. Essi aspettano ancora, ormai da 500 anni, il giorno in cui un patriarca celebra una messa nel Protaton. Il Protaton è uno dei più antichi luoghi di preghiera cristiani ed anche uno dei pochi luoghi in cui sono ancora intatte opere dell'arte bizantina. Questi affreschi provengono dagli inizi del XIV secolo. Il loro creatore è Emanuel Pansellinos, del quale si sa ben poco. Era un artista che non ha firmato alcuna sua opera e ha lasciato il Montesanto quando dopo 30 anni di duro lavoro aveva finito di pitturare la cattedrale. Anche questa icona del Signore è di Pansellinos, un volto umano, non un re divino. Queste pitture al muro che da secoli vengono rischiarate solo dalla fioca luce della candela vengono mostrate solo raramente di fronte a una telecamera. Athos si chiude ed evita tutto ciò che potrebbe attrarre masse di curiosi e turisti. Un tornio azionato a forza idraulica, uno dei pochi ancora esistenti in Europa. Come nella pittura, anche nella falegnameria esistono gli stessi metodi, antichi e tramandati. Ma ora, anche se è perfillo, La palegnameria, l'oreficeria, la pittura e la scrittura sono una tradizione di Athos da secoli. Nessuno conosce il numero delle icone e degli altri tesori sacri che nel corso di un millennio si sono concentrati sul monte attraverso lavoro e doni. Questo per esempio è un vangelo dorato, cesellato, con pietre preziose incastonate. Un regalo dell'imperatore Michiforos Focas del 960. E questo crocifisso si dice che sia appartenuto a Costantino il Grande, il fondatore dell'impero bizantino. La pesca sia degli uomini che dei pesci era un dovere, nonché l'attività preferita da molti discepoli di Gesù. E lo è anche per i monaci del monte Athos. Padre Andimos, nonostante la sua età, circa 70 anni, va ogni giorno in barca nel golfo. Pesca non solo per sé e gli altri fratelli del suo convento, ma anche per i suoi amici a quattro zampe con i quali divide la sua esistenza solitaria, i gatti. Una bellezza nascosta e un amore vero circondano Athos da dieci secoli. Questo non cambierà mai. Il giardino di Maria continuerà a vivere secondo le proprie leggi e i propri ritmi.